Porco il lama Porco il lama Porco il lama a tutti ragazzi eccoci qua con il nuovo Call of Duty Perché pensavo di non riuscire a farlo oggi Però poi sono andato online ho fatto una partitella così E ho fatto 50 uccisioni di fila In vabbè utilizzando anche le ricompense Stavo usando l'attacco Fulmini o il Warthog e l'elicottero stealth Faccio 50 uccisioni di fila vado nel cinema E vedo che mi ha registrato 2 minuti e 20 Cioè mancava tutto il resto della partita Allora mi sono infuriato praticamente E poi oggi ero già arrabbiato Perché guardate le classifiche le hanno azzerate Cioè non a tutti solo a qualcuno Perché vedete che Ron è lì tranquillo con i suoi punti E io no Cioè io come tanti altri abbiamo le classifiche resettate Ovviamente abbiamo i nostri punti Ce li abbiamo comunque perché Se andiamo a vedere ci sono Inoltre il livello ce l'ho e tutto il resto Quindi chi se ne frega Spero che lo aggiustino però perché mi da molto fastidio Però come potete vedere In compenso mi ha aumentato il numero di punti al minuto Perché prima erano buggati Ora mi li da giusti Perché vedete faccio circa 601 punti al minuto Impostazione Mentre ne faccio 629 punti al minuto In uccisione confermata Quindi almeno così va meglio Vediamo un po' Settimanale 1500 Impostazione Non ne ho idea Settimanale 2600 Ma non me ne frega nulla Perché La mente le sa va a classifica globale Ma ormai non ci si può far nulla Qua vediamo Mike Lo salutiamo Andiamo in guerra terrestre Vediamo cosa vi volevo far vedere Di altro Non me lo ricordo neanche Andiamo a vedere le sfide Aspettate Se faccio in tempo No No Dov'è quella killer? Killer Killer Eccola qua Dov'era quella che dico io? Ecco Come potete vedere La prima medaglietta L'avevo presa Nel video di ieri Andate a vederlo Se non l'avete fatto Che ho fatto una breve serie Così giusto Perché pensavo di riuscire a farvi Vedere il video Per oggi Allora Ho detto Dai metto un video Pur di non mettere nulla Cioè metto questo video qua E lì ho fatto la prima serie Da più di 20 uccisioni Ne ho fatta un'altra ora Eh però non so perché Non mi ha dato quella da 25 Perché Io vi assicuro che le ho fatte 25 uccisioni di fila Senza le armi Ne sono convinto Però boh Cioè perché io ho notato Che certe sfide Magari anche quella della Ce n'è una Per fare una killfeed da 8 Se voi fate per dire Una killfeed Cioè ne sono Da killfeed da 6 7 e 8 Se tu fai quella da 7 Non ti da anche quella da 6 E questo qui L'ho notato E boh Secondo me non è che abbia tanto senso Perché comunque Cioè è abbastanza difficile Riuscire a farle Comunque ora vediamo una Cos'è un dominio Su plaza Le ricompense O attacco fulminio Stelte O odestar Boh Non so se riuscivo a chiamarle In questa mappa qua Perché Ora magari faccio anche Un gameplay leggermente più silenzioso Se mi esce Però Magari parlo di meno E riesco a giocare meglio Perché Oggi Boh Ho visto che Come avevo detto In altre Altre volte Parlando Riesco a giocare Oddio 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 Che fail Ecco Parlando gioco male Perché Boh Su mv3 Non mi succedeva Ma forse perché qua sto cercando Di mantenere Gli standard più alti Forse non so Non dico nei gameplay Nel Call of Duty ovviamente Ma dico in generale Sto cercando di giocare un po' meglio E E qui non mi tro Oddio E qui non mi sto ritrovando benissimo A parlare nel mentre Ah poi un'altra cosa Per chi ho cancellato La lista amici Squad su Xbox Dovete sapere che io Di tanto in tanto Cancello sempre Praticamente tutta la lista Perché così posso Posso invitare Oddio posso accettare Le richieste di altre persone Quello lì ha cercato Di uccidermi Col col coltello da burro Perché Voi non lo sapete Ma Su Black Ops 2 Il coltello non serve a niente Cioè Utilizzare il coltello O andare in giro Senza armi È la stessa identica cosa Tipo io così È come se stessi Usando il niente Oh ora cerchiamo di giocare Sono nella tana del loop Ecco vedi Adesso fa migrazione host Se avessi fatto E non avessi avuto Il commentare in live Magari avrei fatto Un gameplay assurdo Ma non sarebbe servito A nulla Anche se tuttavia Io ho notato che Quando c'è il cambio Dell'host Dovete stare attenti Perché spesso La partita Ve la ha splitta Cioè ve la divide In due parti O più Dipende da quante volte Cambia l'host Ma comunque Ve la salva Mentre a me Non ho capito il motivo Proprio non me l'ha salvata Non ha senso Cioè Solo una parte Ma perché Non lo so Aspetta che qua Adesso arriva uno No Secondo me arriva da qua Eccolo Lo sapevo Lo sapevo Ah Vai c'è uno A V Vai A V A V Oddio 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 Che fail Che fail Perché non è morto E' rientrato dentro Oh Ok Una all'elicottero stelto Ora muoio Momenti di panico Panico Però No Guardate il fucile a pompa Guarda dove mi ho ucciso Guarda Così Tranquillo Ah E poi Cioè C'era chi si lamentava Dello spazio su Mv2 Ma ormai Cioè Siamo agli stessi livelli Dello spazio E non sono per niente esagerato Perché È assurdo Eh guarda come lag Oh Cioè il bello è che poi ti segna Tra quattro tacche Ma Ti sta prendendo in giro Perché tu non hai quattro tacche Non le avrai mai Oddio Ricarica 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 No Assist Poi ora Boh I nemici dove spawneranno Chi lo sa E uno mi spawna pure dietro Oh Eh qua sono scappato perché Tanto Sì vabbè Oh Va sempre a finire così Allora Qua ci sono 2000 persone Mi hanno rubato anche le uccisioni E dai 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 Sbrigati Quanto ci vuole Oh Due Ce ne erano 80 E hanno preso i due Vabbè Meglio di nulla Perché Forse non so Hanno depotenziato attacco fulmino Ma ci sono volte che non uccide Dai Non c'è più nessuno Oddio quanti ce ne sono lì Corri Corri Eh no Mi hanno fregati Ok momenti di panico Panico Eh dai Quanto so 26-4 Dai sta andando benino Potrebbe andar meglio ma Ci accontentiamo Per ora penso sia il miglior live Le Call of Duty Per quanto a gameplay Perché Forse stanno Cioè parlano leggermente di me Non riesco a giocare abbastanza meglio Dai Oddio 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 Ma quello lì mi è nato Girato in faccia Cioè Eh dai Corri Corri Adesso vi faccio vedere la classe Per chi la volesse sapere Aspetta che Appena finisce Questo round Vi faccio vedere la mia classe Eh dai Su Sta finendo Ok, eccoci qua La mia classe è così PDV57, mimetica oro Aspetta che abbasso un profumone delle cuffie che mi sto assordando Quindi, silenziatore in pugnatura E sto usando due specialità 1 e due specialità 3 Leggero fantasma e destrezza oltre il limite Destrezza praticamente serve a mirare più velocemente Quando, cioè, apena finisci di correre, miri subito Perché se no ci metterebbe un po' più di tempo E però per mettere due specialità 1 e due specialità 3 Ho rinunciato a granate e flashbang Ma non mi fa assolutamente nessuna differenza Penso che sia caduto il mondo Proprio sono caduti tutti Quindi se io... Eh, migrazione host No, perché pensavo magari riesco ad arrivare prima di tutti E vicino tutti quanti i nemici fermi Dai, migrazione host in corso Secondo me ora butta fuori tutti E dobbiamo terminare qua il call of beauty Boh, noi aspettiamo Tan 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 Ah, dai Siamo in tre? No, vabbè Spero che gli altri segni comunque Che non li abbia buttati fuori Perché se no partono le urla Siamo passati in vantaggio Bah Un giorno lo scopriremo Io adesso vado Magari li trovo tutti fermi, appunto Eh, ancora migrazione host Cioè, sta parita qua stupenda Che bello Continuiamo ad aspettare Magari... Boh Nel mentre riusciamo anche ad aggiustare le classifiche Tanto passano tre anni Ok, dai 3, 2, 1 Via Ok Salta Ah, dai Ci sono i nemici Su Parce ne sono solo due Ma qua... No, sono tre Ma che... Che cosa è? Una presa in giro No Raga Io questa parita qua Ve la calico lo stesso perché Ah, ecco Quello lì è il lost Scommetti VB Cranei Secondo me È il lost Vabbè Questa è una tipica partita Su Black Ops 2 Non c'è niente di strano È normale che vada così Abbiamo perso anche C Ma Che schifo davvero Cioè Che poi Davvero Non so che cosa dire Potremmo terminare il video qua perché Tanto è andata così Stavamo giocando anche abbastanza bene E invece No Non si può fare una partita decente In questo gioco Ora almeno Usiamo il coltello Guardate un po' Oh Ha coltellato addirittura Vabbè Continuiamo giocando col coltello Tanto non si può fare altro Oddio Oddio Mamma mia Eh Poi sono morto Però visto che uccisione Sono troppo forte Continuiamo col coltello da Da burro Perdiamo B Dai che li ha coltello Dai 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 Abbiamo perso A Abbiamo perso B anche Attenti Che fail Guardo Cioè Era fermo a camperare Sono 4 Ma 4 camper Non è una cosa da poco 4 camper Su 4 Eh vabbè Qua ho fatto la boiata Io scusate Ma dimmi tu Se deve andare a finire così Tutte le partite Ho perse Ho rovinate comunque Dalla connessione Vai Crepa 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 Dai Siamo quasi a livello 40 Al quinto prestigio E dove spawneranno mai Sono ancora in 4 eh Ma non li sconciare Non li vedi Silenzio Cioè Non posso Oddio 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 Vai 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 Fermo Madonna Non puoi Oh si sta commettendo gente Magari facciamo il tempo a fare qualche altro uccisione Dai Io mi scuso ancora con voi Ma Cioè E per dimostrare a chi ancora non ha il gioco Come Come vanno a finire le cose E ormai è uscito da due settimane Quindi non è neanche a dire sono i primi giorni Cioè Cioè Io non capisco Fanno Mezzo miliardo Mezzo miliardo di dollari Solo al day one E non riescono a trovare un sistema Per agganciare l'host migliore Cioè Io non capisco questa cosa Cosa ci può essere di così tanto difficile Di riuscire ad agganciare l'host migliore Proprio È una cosa che non mi so spiegare E dai Commando Commando Cioè mi saltano davanti Non ci si due così Il massimo sarebbe stato uccidere anche gli altri Oddio Se qua ci riesco a ucciderla Vai 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 No La bouncing bet No 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 è finita È finita No No Devo uccidere Io Dai 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 No Di così poco cavolo Ho visto Si era anche messo in posizione Commando Perché dovete sapere Che questo coltello qua Non uccide tutte le volte Nello stesso modo A volte Lo fa di lato Non so A volte quando si mette così In verticale Vuol dire che si sta attivando Commando E uccide dalla distanza Però vabbè ragazzi Questa partita qua È andata a finire così Cosa ci possiamo fare Noi In niente Quindi Porco il amo a tutti E ci vediamo con il prossimo video Probabilmente domani o dopo romani Ciao ciao